Castiglioni in tavola, il prossimo weekend a Castiglioni Ferentino la possiamo chiamare la sagra dei ristoranti? Sì, una buona definizione, la sagra dei ristoranti sono oltre 20 attività del nostro comune che si sono riunite in questa iniziativa che è tesa a promuovere sì il territorio, i prodotti però locali quindi anche della filiera corta cercando ovviamente di privilegiare la qualità del nostro cibo nella stagionalità. Questo è un modo diciamo di stare attenti a coloro che pagano le tasse tutto l'anno perché alla fine i ristoratori sono anche questo, coloro che faticano anche verso quello che è un po' la concorrenza sleale delle feste, delle sagre paesane che ovviamente sottraggono potenziali clienti alle nostre attività ristorative però dietro a tutto questo c'è la volontà di promuovere un territorio quindi ho detto anche scherzosamente farò un'ordinanza che i cittadini di Castiglioni Ferentino non potranno andare a pranzo a cena il prossimo weekend fuori dal territorio comunale. Allora e come funziona questo weekend praticamente? Ma noi abbiamo sostanzialmente ricevuto da tutti i ristoratori che hanno aderito la propria carta, ognuno ha fatto una carta menù dedicata anche a questo tema di questi tre giorni e quindi al di là delle normali portate che si possono trovare nei ristoranti di Castiglioni Ferentino ci sarà un menù per un fine settimana che noi abbiamo il privilegio ma anche l'impegno di voler promuovere attraverso delle specifiche anche specialità culinarie. Non è che ci inventiamo niente di particolare però mettiamo al centro della tavola i ristoranti.